Un percorso competitivo inserito in un paesaggio suggestivo, il Mondiale Italiano di Mountain Bike, si svolge quest'anno all'Isola d'Elba, con partenza e arrivo a Capoliveri. La manifestazione sportiva, in programma dal 30 settembre al 3 ottobre, è stata presentata in Regione Toscana. La gara, che assegna il titolo di campione del mondo maschile e femminile, è in programma sabato 2 ottobre sul promontorio di Monte Calamita. Capoliveri è riuscito a conquistarsi e con Capoliveri l'Isola d'Elba, ovvero un campionato mondiale di assoluto prestigio, che non interviene a caso solo per motivi promozionali, ma perché in quel tracciato, che è uno dei più bei tracciati del mondo, là dove si staglia il mare intorno a colline che riescono a esaltare il gesto atletico e sportivo, coniugandolo con la bellezza che quel luogo riesce a offrire, questo biglietto distintivo della Toscana riesce a portare come immagine in tutto il mondo, debba essere sostenuto e valorizzato perché dietro c'è un lavoro, c'è un lavoro che nasce da lontano e che ha visto l'evento della Marathon Bike crescere di anno in anno, portando quello che a mio giudizio è uno degli esempi fondamentali, di turismo sportivo. Un evento di portata internazionale che porta l'Isola d'Elba a rappresentare l'Italia e che ha due testimonia di eccezione, il professor Enrico Castellacci, medico della Nazionale di Calcio Campione del Mondo 2006, elbano e attuale assessore allo sport del Comune di Capoliveri, e Mario Cipollini, ciclista su strada, campione del mondo 2002. L'UCA e l'Unione Ciclistica Internazionale ha voluto dare all'Elba e in particolare a Capoliveri, quindi noi ci vantiamo di questo ma in realtà rappresentiamo l'Italia. Il Mondiale è difficile, come avete sentito, il percorso però è splendido e quindi siamo convinti anche in un momento così brutto, in una crisi pandemica che ci attanaglia, che quindi non ci permette di essere liberi nell'organizzazione, sperando che a ottobre le cose migliorino e si possa riuscire a vedere un grande spettacolo. Credo che l'Elba sia il posto meraviglioso perché questa disciplina possa esaltarsi ancora di più visto il mare, le colline e le montagne e per cui mi auguro che questo mondiale abbia il successo che si merita, soprattutto a lungo termine. L'Isola d'Elba è un territorio perfetto per questi sport outdoor e conta 400 chilometri di percorsi censiti da Google.